Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon Continuo il mio walkthrough su questo videogioco molto simile a Pokemon ma che vi straconsiglio se siete fan specialmente dei vecchi Pokemon perché riprende l'essenza di quei giochi e la attualizza al 2022 e la rende molto più interessante Nella scorsa parte avevamo affrontato una boss fight difficilissima contro Illusion il secondo titano che abbiamo sconfitto in questo walkthrough Ne mancano quattro dice, ci ha detto Illusion e Yug ci ha anche detto di arrivare qui all'hyperloop dove un meccanico della Lux Solis ci aspetta Direi che sia Perrin, direi di entrare e vederlo noi stessi Nel frattempo vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, ad iscrivervi e a condividere Aspetta Gracial, sto dando gli ultimi ritocchi alla riparazione Guardalo Fiero Che non è Perrin comunque questo Ed eccoci qui, ora funziona di nuovo Eh, non c'è davvero nulla che il modulo brucia non possa fare Ah, ecco come potremmo prendere quelle chest Quelle scatulone che dovremmo prendere Che tempismo perfetto, ti cercavo in città Ho delle notizie La mia invenzione L'appoggio di tutta la mia vita Finalmente, finalmente pronta Gracial Sì esatto Tra qualche settimana il modulo brucia sarà disponibile a tutti gli attuali impiegati di Lux Solis Ma è fantastico Percy, congratulazioni Quindi, era per questo che mi cercavi? Per darmi questa bella notizia? Beh, in parte In realtà, sono qui di persona per darti il mio modulo brucia Gracial, sei stato così carino con me Una delle poche persone che davvero si è interessata al mio progetto Dai, è totalmente sicuro Basta connetterlo Ok, abbiamo il modulo brucia Ottimo Le possibilità con quel modulo sono infinite Puoi bruciare l'erba, le siepi o accendere le torce Praticamente potrei bruciare qualsiasi cosa Sono sicuro che ne farai buon uso quando scalerai la piramide di Sart Oh La piramide di Sart? Sì, Riegel non te l'ha ancora detto? È lì che abbiamo individuato il prossimo titano Ad ogni modo, ora devo tornare Altrimenti il learning mi preparerà uno dei suoi scherzetti alla mia scrivania Brucia bene Sì, è un augurio un po' strano da fare Posso interagire qui? No Posso però attivare questo Aha Cosa fa? Cosa mi sta facendo? Io vi ricordo che sono in blind Non so cosa sta accadendo qui Ah Ah, infatti Ok, è un treno È un sorta di teletrasporto in realtà Ok Strumento invisibile? No Però io volevo prendere quelle ceste in realtà Quindi fatemi tornare qui Fatemi tornare là perlomeno Volevo prendere quelle Quelle ceste appunto che erano rimaste In sospeso No, letteralmente perché non erano qui in sospeso Ma erano a terra Solo che ora con il modulo brucia Posso effettivamente prenderle Andiamo va Ma dite che è un extra questo modulo brucia? Cioè Secondo eh Ok, ora posso usarlo Posso bruciare l'erba mi ha detto Ah eh? Ho trovato 62 oro bruciando l'erba Scusa Ma quest'erba poi ricresce Altro oro Vabbè, ma questa scusa Diventa una Una cosa da uccidire Posso bruciare anche questo? No Però le si e PC Quelle le si E dovete andare a prendere quella ceste Che non potevamo prendere Guardala lei Boom E via Presa 420 di oro Niente male Poi Ce n'era un'altra giù sotto eh Ce n'era un'altra qui da qualche parte Eccola lì Vai Brucia E brucia Spinner nanno Beh, fanno sempre comodo Poi Qui non credo ci sia più niente A questo punto possiamo andare Possiamo andare alla prossima città immagino O comunque alla piramide di Sartre Come l'ha chiamata Vai Nessere l'erba ricresce una volta che Cambio zona Sì ok, ricresce Meglio Perché altrimenti qui uno poteva fare danni irreparabili Ok, proseguiamo Rifacciamo questa animazione Spero che sia più veloce questa volta Ok Avrei gradito che dopo la prima volta L'animazione diventasse più Fluida Ok Possiamo uscire da qui Vediamo cosa c'è Deserto di Wostin Ok Strumenti invisibili qui Magari Ah Vieni punto da un cactus Vieni punto da un cactus Ma I tuoi cormon prendono danno? No Non sembrano prendere danno Intanto qui abbiamo una conquista da fare Sì perché Tra un episodio e l'altro Sono andato a raccogliere dei frutti E senza Repellente Va bene Io sono curioso anche di vedere Che pokémon ci sono qui O meglio che cormon ci siano qui Là c'è qualcuno Che chiede aiuto E qui c'è un allenatore qui sotto Un addestratore per meglio dire Sfidiamolo Aia Un cactus mi appunto sul ginocchio Ma non influenzerà la mia capacità di combattere Va bene Tiuga Ha solo due cormon Quindi non ne vale la pena di usare Scippo Colpo di Fulmine Agilità Va bene È già più veloce di noi Quindi è abbastanza inutile come cosa Colpo di Fulmine Lo sente Lo sente parecchio Altro colpo di Fulmine Becco Ok ci fa abbastanza male Ma non così tanto Vai Pazzer Devi salire di livello Perfetto 29 come non detto Subito l'ha fatto Hamby Questo non Forse è la terza evoluzione Di Beh tipo normale Può darsi La terza evoluzione Dell'insettino Ah però Fa male Morso velenoso Anche questo Gli fa male A questo punto Cambiamo Cormon Ah ok Mangia il frutto Juba Sì però cambiamo Cormon Comunque Squadra E mandiamo Digmaw Così da prendere Ancora più soldi Api velenose Vabbè non è un problema Perché adesso lo shottiamo Almeno credo Allora sì Morso velenoso Dovremmo shottarlo Doppia puntura Ok ci fa un discreto male Però lo shottiamo Così non veniamo avvelenati Perché vi ricordo Che le api velenose Avvelenano Le api velenose Avvelenano Nel turno successivo Lunar wolf Al 30 Ok Buono Però a questo punto Direi anche di togliere Sposta oggetto Anzi riprendi l'oggetto Sì Da lunar wolf Così da lasciare Riprendere più esperienza Anche agli altri Perché la natura È già al 30 Quindi insomma Potremmo darla A patterbeat volendo Ma patterbeat Non mi interessa Che sia di livello alto Sinceramente Oggetti Diamo le retorte PS small A buzzer E una A digmaw E in più Poi diamo anche Dei frutti O meglio Un frutto Juba Eccoli qui A buzzer E uno A lunar wolf Ne diamo Uno anche a patterbeat Dai Andiamo Uno anche a patterbeat Poverino Poi Metto davanti Digmaw E andiamo Qui sotto C'è Uno strumento Da prendere Però c'è Un cactus Anche lì Ok Torta PS Va bene Possiamo anche Per seguire di qua Tra l'altro Cosa c'è di qui Esattamente A parte un Sand scale Che non abbiamo Che direi Catturare Tipo terra Quindi Super efficace Solo acqua Usiamo Morso Velenoso Ci fa male Il morso Velenoso E in più Avelenato Buono Usa pure Il rafforzatore E noi Ti cattureremo Vabbè Fatemi sapere Intanto Cosa ne pensate Di questo videogioco Di questo Coromon A me sta piacendo Un casino Infatti Come vedete Sto portando Tutta la serie E penso Proprio di finirlo Di portare Tutta la serie Su youtube Vai Preso Ottimo Allora Standard 8 Quindi è un po' Una pippa Rarità comune Morso Rafforzatore Sabbia attascabile Cosa fa? Fa cadere un po' Di sabbia In faccia All'avversario Diminendo la sua Precisione Di uno stadio Ok Tira una palla Di fango Verso il nemico Infligendo danni Abbassando la sua Velocità Di uno stadio Eh Questo Non sarebbe male Come Coromon Da portare Contro i boss Il Coromon Si muove con agilità Durante una tempesta Di sabbia Aumentando la sua Difesa fisica Ok Si lo teniamo Landscape Sandscape Volevo dire In via deposito Ok Digmo se prende La sua bella esperienza Mi chiedo anche Quando Si evolveranno Questi Coromon Al terzo stadio Sempre che ce l'abbiano Al terzo stadio Qui non c'è Letteralmente nulla A me sembra strano Però Cioè ci fa venire Più per niente Perché costruire Questa mappa Qui se non c'è nulla Vabbè Letteralmente Non c'è nulla Quindi andiamocene Proseguiamo di qui E possiamo proseguire Su Però qui c'è Un Coromon Oddio Sentilla È un vermone Che ha Uragano Ok Sarà di tipo Terra anche lui Sì Vai Morso Velenoso Ah però Resiste Però È stato avvelenato Scavatore Se ne va giù No Evasione di Sentilla È stata aumentata Va bene Lo so è evasione Io direi di usare Un altro Morso Velenoso E poi di provare A catturarla Assorbi energia Questo rompe le palle Ah però Li converte in pie Va bene Allora va bene Vai Oggetti Spinner Buono Adesso Prendiamo Prenderlo Ok Non l'abbiamo catturato Purtroppo Continua a subire danno Quindi noi Gli tiriamo semplicemente Un altro spinner Questa volta Potrebbe entrare La signorina Sentilla No No A quanto pare no Palla di fango Sentilla Vuole entrare Por favor Userò uno spinner Argentato Perché non so Se sia raro Questo coromon Non credo sia raro Sinceramente Però per non rischiare Ok Preso Non comune Però Non comune Quindi ok Standard 5 Una merda Scavatore Scava sotto terra Per aumentare l'evasione Va bene Ventile al deserto Evoca una tempesta di sabbia Ok Palla di fango Lo sappiamo E sorve energia Anche Abilità Ok Evoca una tempesta di sabbia Va bene Lo tengo Noi gli diamo un soprannome E lo inviamo al deposito Altri punti esperienza Fatigma Niente male E proseguiamo Allora direi di dare Una torta small A Digmo Vai Ok E andiamo lì qui Strumentino No Ah un altro cactus Anche quello La madonna ragazze Però lì non posso Arrivarci Scusami eh Ah col modulo brucia Aspetta Ah E infatti Salve La mia scavatrice Rileva una enorme Pira di gemme Sulla sinistra Ma c'è una stupida pianta Che mi ostacola Ho provato a usare Il modulo spinta Ma la forza Ci passa attraverso E il modulo puzza Ha solo reso Puzzolente Col cespuglio Sei in altri moduli Ti prego Mi serve aiuto Ma ovvio Tac Lo hai fatto Per me Sei innamorato O sei innamorata Ha preso una gemma Sì trovati Ti ringrazio Straniero Diventerò ricca Eccoti una micro parte Del mio profitto Per il disturbo Vabbè 600 di oro Non si buttano via Spinner sabbia E si prosegue A questo punto Magari anche di là Potevo fare qualcosa Però non credono Dirà no Qua tra l'altro Posso bruciare un sacco Di piante Magari posso trovare Qualcosa all'interno Delle piante Provo a farle solo qui Vediamo se Esce qualche oggetto Oppure no Tanto il modulo È infinito Mi ingarbuglio Un po' con le dita Di nuovo Ok Non c'è niente Qui Quindi non penso Che nelle piante Si trovi qualcosa Sinceramente Posso salire qui Sì E qui posso usare Anche questo modulo Per incenerire questo Qui strumento invisibile Infatti Immaginavo Chip Però da qui Non si va da nessuna parte Poi C'è letteralmente Fino a se stesso Questa parte Vuol dire che Si andava avanti Di là Allora Vuol dire che Si va avanti Di qui Sì Penso che lì Ci siano delle scale Qui E devo bruciare il cactus No Ok Posso andare qui sotto Forse Nemmeno Mi sfugge qualcosa Ah Possevo salire qui sopra Vabbè Sono stupido ragazzi Non vedevo le scalette Scusatemi Proseguiamo Strumentino No Abbiamo visto che Posso essere Nelle rocce Gli strumenti Ok Di qua niente Di qui nulla Questo sarà un altro Allenatore Immagino Salve Roscoe Si dice che il caldo In questo deserto Coccente Possa far impazzire la gente Nel mio caso Sono diventato pazzo Pazzo per i Moffel Ok Anche io ho un Moffel Anzi io ho un Digmo La sua evoluzione Qua ti shippo un botto Mi spiace Ti shippo Poi ti mando Feedly E ti disintegro Con Delle attacche Ok Non farmi sanguinare Grazie Perfetto Morsa Non mi lascia andare No Che palle Volevo cambiarlo Con Feedly E a questo punto Continuo a shipparlo Codratante Però i danni Però i danni Morso velenoso Vai Vediamo che fa più danno Mi sa io Ok Posso cambiare Coromo ora Attenzione Evolve Digmo Terzo stadio Vediamo come diventa Oddio cos'è Tipo il Drago Sherron Ok Vabbè è diventato più lungo Semplicemente Doug Terra Anche il nome Non è che sa che È diventato semplicemente Molto più Pi lungo E non è più intrappolato Perfetto Lui manda Moffel Oh Moffel potente È proprio lui Squadra Fidley Vai Una mossa di tipo acqua Sarà più che sufficiente Per eliminarlo Morsa Va bene Non è un problema Perché tanto ti usa uno spruzzo E Ti mando A casa Basta un solo colpo Per eliminarlo Non ne serve nemmeno più di uno E spero che ora mandi un bel Moffel O meglio Un bel Digmo Così che No Un altro Moffel Così che Avrei potuto prendere più punti esperienza Ma Niente Un altro Moffel Banale Addio Però a livello 30 Niente male 31 per Fidley Però non si evolve Fidley Non importa se continuo a perdere Ho giurato di non far evolvere I miei Moffel Vabbè Contento tu Contenti tutti Aha Strumento nel cactus Storta di ghiaccia Ok Qui c'è uno strumento Prendiamolo con il modulo fuoco Mossa istantanee Sabbie Quella che ha Moffel Proprio quella di mossa Allora qui sotto Si potrebbe andare Ma A che pro A nulla Possiamo andare a prendere Con la chest Però lì sotto Ok Altro strumentino Torta velocità Vabbè Non inutile Mentre qui si può tornare indietro Facciamo così Ecco qui E quassù si può andare in una grotta Ok Particolare questa cosa E lì c'è un qualcuno Stordito Stordito Più Ho dovuto fare una pausa Dopo aver percorso Le sabbie ardenti Ora sono meno accaldata Andiamo a vedere Se anche i miei Cormon lo sono Va bene Patricia 3 Cormon Quindi vale la pena Fare scippo Ah Blitzboard Ora abbiamo Duke Terra Tra l'altro Ancora più forte 425 Non male Neve sporca E ci ha confuso Ok Tanto poi Non lo sostituiamo Quindi Non è un problema Permafrost Questo fa male Vai Scippo d'oro Ottimo E un altro Permafrost Bene Ora sostituiamolo E mandiamo Aroara Vai Così se usa Il nuovo Permafrost Lo tankiamo Come niente No Beck usa Niente Lui lo sapeva In qualche modo Che Avrei mandato Lui Usiamo Graffio Deve fare Abbastanza male Comunque Esatto Ragnatela di Ascio La velocità Diminuta Di molto Lui usa Un'altra Ragnatela di Ascio Va bene Blitzboard Forza Graffio Buono Ah Mangia il frutto Mule Ah Per recuperarsi I pie Va bene Mentre io Un blegraffio E Addio Blitzboard Cairo Un'altra Cormone Di tipo Ghiaccio Si E niente Si continua Con Graffio Mossa Gelato Non ci fa Nulla Sperando Che non Ci congeri Però Qui La faccenda Diventa Un po' Lunga Cambia Ancora Ma Perché Continua A cliccare Suggetti Non lo so Ma andiamo Fedele Perché Altrimenti Qua ci Smettiamo Tre anni Solo per Fare Questa Lotta Eccoci Qui Fermo Frost Non ci fa Nulla In teoria Ah no È vero Mi son Confuso Mi son Confuso Pensavo Che l'acqua Fosse Super Efficace Sul Ghiaccio Invece Al contrario Mannaggia A me Ma andiamo Buzzer Però va Vai Colpo Di Fulmine Toglile Un po' Di vita Esatto Barriera Di Ghiaccio E Aumentare La sua Difesa È Nelzato Un muro Di colonne Di Ghiaccio E Si è pure Curato Colpo Di Fulmine Vai Dai Due PS Gli sono Rimaste Altra Barriera Di Ghiaccio E Io ti tiro Un altro Colpo Di Fulmine Addio Buono Così Non mi ha dato Nessun punto Esperienza Vergognati Però Fiddy Ha risvegliato Il suo Potenziale E Tiremo Su Attacco E Velocità Arohara Ok Proprio Lui Vai Il Zampino Non è Molto Efficace E Tiro Un bel Colpo Di Fulmine Altro Colpo Di Fulmine Vendetta Questo Potrebbe Far Male Ok Ora Però Devo Sostituirlo Altrimenti Me lo Ammazza Squadra Qualcuno Che possa Tancare Un colpo Di Tipo Normale Lunar Wolf Che Se Usa Di Nuo Vendetta Lo Tanchiamo Benissimo E Intanto Abbassiamo Anche L'attacco Fisico Ok Usa Vendetta Infatti E Come vedete Non ci fa Nulla Mentre Noi Con Punta Fantasma Dovremmo Riuscire A Shot Parro Esattamente E Aumentiamo Pure L'attacco Fisico Perché Se Uccidiamo Un Coromon Con Punta Fantasma Aumenta L'attacco Fisico Di Due Stari Buzzer A livello 30 Buono E Patrizia È Morta Devono Ancora Essere Storditi Dal Sole Non È Quello Patrizia Un'altra Cosa Però Qui Non so Se Entrare In Questa Grotta Vediamo Cosa C'è Prima Di Tutto Ah Semplicemente Il C'è Un Poi Coromon Vai Non voglio Tornare Al Centro Al Centro Destratori Sinceramente Mi va Bene Così Poi Tra l'altro Abbiamo Il Nostro Nuovo Dug Terra Che OP Ma Andiamo Davanti A Roara Che Proseguiamo Però Qui Mi sa Che Ora Possiamo Incontrare Coromon In Continuazione Vero Attenzione Più Avanti Ci Sono Le Sabbie Ardenti Appunto Oddio Chi è questo Doompod E L'evoluzione Per me È un'evoluzione Questa Di qualcuno Morso Gelato Frenetico Usa È impazzito Come scusa Ha usato Frenetico Di nuovo Ok Altro Morso Gelato E poi Proviamo A catturarlo Prenetto Ancora Va bene Oggetti Spinner Vediamo Se non Entra Questo Spinner Però Lo secco E via Infatti No però Aspetta Potrebbe Essere Raro In realtà Potrebbe Non Essere Evoluzione Di Di Quel Tipo Quindi Non So Io Uno Spinner Argentato Glielo Butto Ok Preso Buono Andiamo Adesso Mario Rarità Comune In realtà Ok Specie Downpod Forse Allora È un Primo Stadio Cavatore Frenetico Vediamo cosa fa Frenetico Impazzisce Per 4 round Attaccando con Un danno Maggiore Per un attacco Riuscito Il danno Torna alla Normalità Quando il Coromo Torna In sé Non è male Palanghe Di pietra Crea un ammasso Di pietre Facendole Cadere Sul nemico Ha il 20% Di probabilità Di abbatterlo Ok Abilità A mettere solo Il città Nella pioggia Ok Strano Lo teniamo Non volevo dare Soprannome Riescriviamo Lì Downpod Che ho fatto Vuoi dare Soprannome Sì Va bene E lo inviamo Il deposito Aroara Al 30 Buono È sbloccato Vendetta Colpisce Il nemico Più basso Il valore DPS Del Coromon Maggiore Se lo danno Inflitto È molto simile A quest'altra Vendetta Ma perché Hanno degli attacchi Con nomi uguali Porco cane Però Vendetta Potrebbe Fare molto Pi danno Sono entrambi Normali Entrambi Fisici No Nientro Lascio lì Non lo prendo Vendetta Ok E si prosegue O meglio Vorrei Proseguire Ma non posso Posso bruciarlo Questo No Posso spingerlo Nemmeno A parte Qui non si sale Ah c'è la Scalettari Come al solito Stavo facendo La gaffe Di prima A doppia Attenzione Tornare indietro O mettersi La firma Solare Ok Bitti Bolt Oddio Bellissimo Lui Voglio prenderlo Palla di neve Non dovrei Shuttarlo Infatti Bomba Questo mi farà Un male Pazzesco Fortunatamente No E si mangia Pure il frutto Juba Oggetti Vai Spinner Lo voglio Questo Bitti Bolt È una Del cormon Più Belli Che ci sono In questo Gioco Per quelli Che ho Visto Finora Ok Sì Guardiamo Stommario È una Pippa Questo Bitti Baltora Non comune Appunto Cosa carina Scarica Elettrica Pelliccia Statica Bomba Voglio dire Cosa fa Esattamente Un potente Attacco Che esaurisce Fino a 60 Punti Dei rimanenti Piede Il cormon La potenza È il triplo Dei Piede Usati Alla faccia È tipo Un attacco Finale Mega Potentissimo Big Bang Attacca Il cormon Non si preoccupa Degli attacchi Fisici E riduce Il danno Del 25% Di tutti Gli attacchi Fisici Però Lo tengo No Non gli diamo Un soprannome E lo inviamo Al deposito Oh eh Niente male Due obiettivi Sbloccati Oppure Se è bugato E riuscito Due volte Vediamo di prenderli Ogni 10 Lotta Vinte E ogni 5 Cormon Catturati Altro livello Ok Torta combo Va bene Proviamo Ah tra l'altro Qui c'era uno strumento Infatti Vabbè Un frutto inutile E curiamoci un po' Arohara Lag terra Ancora confuso Però Qui nada Qui nada Non scherziamo Qui fuori c'è un caldo estremo Vabbè Arriviamo comunque Ah tra l'altro No Di sotto c'era da prendere La Attenzione Poi ce l'ho Cosa ci fai là fuori Veloce Vieni qui all'ombra Di questa tenda Più Non scherzavi Qui si bolle Ci sono le sabbie ardenti Si sa che il caldo Dura a lungo In questa valle Stanno sempre tutti A parlare di come Le temperature della sabbia Quest'anno Abbiamo raggiunto Temperature da record Se non fai attenzione Caldo trapassa anche le sole Delle scarpe Un incubo Devi fare attenzione Con prudenza Potrai raggiungere Dardic Basta che ti fermi A ogni tenda che vedi Resta alla loro ombra Per mantenere freschi I tuoi piedi Se fai così Le tue calzature Te ne saranno grate Ok A proposito di calzature Le mie sole ormai dovrebbero essersi sufficientemente indurite Buona fortuna per il viaggio Partito Ok Abbiamo la temperatura Lì che sale A sinistra E qui volevo scendere Per prendere lo strumento Ecco qua Torta pie XL Vabbè non male E ora possiamo fare fuga In ogni caso Un altro Bittybolt Che se non è potente Non mi interessa Quindi fuga E Digmu Non è più confuso Bene così Altro Cormon Vediamo Un armadil Va bene Abbiamo un attacco da fargli No Fuga Vai Proseguiamo Vediamo di riuscire a superare questo deserto Magari in questo episodio Ok Se stiamo fermi Non aumenta Il contatore Ok Sono letteralmente passi Che puoi fare Andiamo a prendere questo strumento Per prima cosa Frutto mull Qui c'è uno strumento No Ok Poi ci mettiamo qua E la temperatura scende Va bene Pacifico Non è niente di che Alla fine Abbiamo l'occhiata Di eventuali strumenti Nascosti Qui Ah Ho già perso Riprova Non me ne ero manco accorto Guarda quanto sale L'ombra degli alberi Vale No E devo essere qui Aspettare Come faccio ad arrivare di là C'è un passaggio qui E me lo son perso No Vorrei anche capire Che a poco Non salvatici Posso trovare qui Sinceramente Però mi sa che non è il momento Di pensare Il cuore Non salvatici Andiamo direttamente Alla tenda Infatti Avevo quasi perso Esploriamo un po' Vediamo L'altra tenda è lì Vai Raggiungiamo La cormo selvatico Perfetto Oddio Skuldra Tipo terna Anzi Palla di neve Proviamo a catturarlo Morfeo Ci fa addormentare Ci ha addormentato Sì Mannaggia lui Sveglia Tirai Porco cane Dorme come un sasto Però perlomeno Rigeneriamo pie Illuminazione Cosa passa Aumenta Cosa Attacco Attacco fisico Sì E difesa fisica Forte Palla di neve Dorme ancora Mannaggia Osso finto Aia Dai Svegliati ora Ok bravo Palla di neve Dove fargli meno danno Perché si è tratto sulla difesa Infatti non fa così tanto danno Altra illuminazione In teoria Graffio non dovrebbe Shottarlo Questo eh Proviamo A meno che faccia brutto colpo Ok perfetto Ed ora Può essere catturato Oggetti Spinner Vai Come vi ho detto anche in altri episodi Lo spinner Di spinner speciali Di uso Per i cuore Cormon potenti Quelli che so che terrò per forza Ok Ha un buonissimo attacco fisico Lui Non comune Tra l'altro E Illuminazione Vabbè sappiamo cosa fa Teschio tossico Il Cormon lancia un teschio Coperto di muffe tossiche Verso l'avversario Infligendo alcuni danni Provocando l'avvelenamento Beh niente male Osso finto Infligendo danni Ha il 25% di possibilità Di rendere confusione Amico Ecco perché non ci faceva danno Era speciale questa mossa Mentre questa era fisica Se ci faceva questa Ci faceva molto più male Morfeo Vabbè questo invece Ci addormenta Il Cormon Non si preoccupa Degli attacchi fisici E riduce il danno dal 25% Questo è davvero buono Comunque di Cormon Lo tengo Cioè è un Cormon Che addormenta Avvelena E Riduce il danno Degli attacchi fisici In più si busta Non è male Ok Ombra Tormentino qui no Torniamo all'ombra E proseguiamo di qui Aia Ok Ci sono arrivato Al limite Andiamo a prendere Quello strumentino E senza repellente Inutile E ora come faccio Ad attraversare il ponte Qui tra l'altro C'è un allenatore Che vorrei battere Quindi Ricarichiamoci un attimo Che poco Ma mando davanti Ma andrò davanti Duc Terra E vediamo di battere lui Questo suolo di terra indurita È un ottimo sollievo Per i miei piedi Mi scommetto Che è sufficientemente sicuro Anche per farci Stare i nostri Cormon Ok Quindi la terra Non ti aumenta La scottatura Buono sapersi Ah Mubi Lo conosciamo Questo Mubi Possiamo fargli Scippo d'oro Lui non dovrebbe Farci troppo danno Infatti prendiamo Un bel po' di Di oro Lui aumenta La sua difesa Fisica Però non fa Praticamente Nient'altro Palla di sabbia Infatti È abbastanza inutile E sceppo d'oro Buono così Fugno furioso Non dovrebbe farci nulla Anche perché Ha un attacco Inutile Questo Cormon Cioè Mubi è proprio Un tank E a questo punto Niensegniamo Cosa vuol dire Essere un attaccante Con Morosso Velenoso Visto che danni Che ti ha fatto Mubi Contento Pure avvelenato Che sfigato Quei due PS Che gli sono rimasti Morirà E Li perderà Per il veleno Unlucky Mubi Quanto esperienza Mi dai Pochissima Tra l'altro Però ho risvegliato Parto del mio potenziale Grazie mille Vie E velocità Molbash Oh Evoluzione di Mubi Probabilmente Interessante Interessante Morso Velenoso Tu resisti di più Vero? Ricostruzione Va bene E la sua difesa Aumentata Altro Morso Velenoso Brutto colpo? No niente Ricordo che Questo mio Formon Ha l'abilità Che gli aumenta Del 25% La probabilità Di brutti colpi Eppure Non li fa mai Ok Questi invece Sono parecchi punti Esperienza Per Dal Terra Unda Sismica Aspetta Fisico Potenza 10 Il Cormon provoca Unde Sismiche Infligendo danni Alla squadra avversaria Con una potenza Che varia ad ogni utilizzo Ah sarebbe Magnitudo No non mi interessa Preferisco Sabbio Mobile Che però è speciale Abbiamo un attacco speciale Buono il mio comunque Quindi va bene Va bene così Va bene così Mi tengo Morsa Che sarebbe Morso E E Morso Velenoso Mi va bene così Molbash Di nuovo Proviamo a farlo battere Ad uno della nostra squadra Tipo Lunar Wolf O Buzzer No Buzzer Prenderebbe un bordello Di danno Un attacco di potere Ma andiamo a Lunar Wolf Così che possa prendere Un po' di punti esperienza Bulletto Bravo Diminuisce l'attacco Valanga di pietre Con l'attacco diminuito Fa questo danno Beh niente male Proviamo il Toodoo E' comunque più veloce lui C'è assurdo Non capisco come Lunar Wolf Che è un Cormon Così veloce Si è sempre così lento Di tutti Forse V2 Capisce sempre dopo Ok Non Non ho fatto così tanto danno Sinceramente mi sarei aspettato Di meglio Con tutto l'attacco speciale Che ha Scusa eh Lui prende danno normale Da mostri tipo Spettro Ah no Questa è magia Non è spettro Quindi non prende lo stab Facciamoli comunque ancora Voodoo Andiamo sul sicuro Ok lui usa palla di sabbia Colpo critico Che culo Cioè Che culo da parte sua Farlo Perché non ci avrebbe mai ucciso Altrimenti Ok Obiettivo sbloccato Va bene E' sconfitto Vartan Potrebbe anche essere abbastanza sicuro Per una lotta tra Cormon Ma non per il mio ego Va bene Ok qui infatti Non aumenta Ok quindi Fermiamoci qui E poi Andiamo subito Qui sopra Ora dobbiamo Attraversare Indenne Questo ponte Ok fatto Easy Qui possiamo Tranquillamente Passare Qui non si passa Però Strumentino No Strumentino No Strumentino Nemmeno Ricarichiamoci Ed è che ci siamo Ricarichiamo anche i nostri Cormon Vai Torta PS Brunar Wolf Tutuk Terra E su Arohara Su Arohara al massimo Perché lo metterò davanti Poi Vai Arohara È tutto tuo Il primo posto Guarda Devo capire dove andare Vediamo di qua Cosa c'è Ok Altra Allenatrice Sì Ecco le mie chance I miei piedi sono freschi Mentre tuoi sono roventi No sono passato sulla roccia Quindi niente da fare Tra l'altro questa ha due cormo Quindi non è Indispensabile fare scippo E posso iniziare subito a colpire Con palla di neve Vai Arohara Prenditi questi punti esperienza Niente male Però colpo critico È una bella difesa Armadire È Mi ha fatto pure sanguinamento Mannaggia lui Vai vediamo se riusciamo a shottarlo A3 PS Questo fa male Vai Graffio E addio Però Arohara Comunque ha resistito bene Ora tocca Eh sì Oh Va bene Palla di neve Questo dovrebbe fargli male Non dovrebbe avere molta difesa Lui infatti Faccia interiore Va bene Aumenta la sua difesa speciale Però Palla di neve Dove essere fisica Aia Questo fa male Ok Ci ha colpiti solo una volta Fortunatamente E ci ha colpiti per primi Perché a fulmine 7 A priorità È una mossa che colpisce sempre per prima Arohara però al 31 Intanto Non si evolve Al terzo stadio Ok Accidenti Ho perso comunque Ma come Devi essere uno di quelli stramboy Con i piedi sempre freschi Stramboy Intanto Calma Calma Strumentino No Però qui si Essenza proteica Va bene Altro allenatore Oh no Sto per andare a parlare a lui Alt Le sabbia ardenti Sono il mio Posto speciale Dove scavare Impedirò a chiunque Di estrarre quelle gemme Prima di me Va bene Orge Ecco lui Nel 3 di gormo Quindi Questo non l'abbiamo ancora visto Potrebbe essere utile Usare scippo Dobbiamo rifare palla di neve Però per ora Lo senti eh Colpo critico Tra l'altro Però è stato abbattuto Buono Già che è stato abbattuto Userò un'altra palla di neve Boom Altro colpo critico Vabbè Quasi sono stati fortunati ragazzi Due colpi critici E un abbattimento Top Lunar Wolf Ok squadra Mandiamo il nostro Speriamo che lui Non faccia un attacco Di tipo spettro O magia Altrimenti ce l'ho sciotta Non fare voodoo Cacchio Però colpisce Roara Che resiste Buono Ora ti faccio vedere io Cosa vuol dire fare voodoo Ululato Mi aumenta l'attacco fisico Di molto E ho tu uso voodoo Ho colpito te Quindi due le sciottarvi Non fare storie E muori Buono Giusto così Con tutto l'attacco speciale Che ha Lunar Wolf Voglio dire Ok Lunar Wolf Al 31 E non si evolve Altrimenti Ma mi sa che questa È la sua evoluzione finale Oh Embeval Carino Facciamo di nuovo voodoo Fumogeno Aumenta la sua Illusione Probabilmente Sì Evasione Però voodoo Colpisce comunque E ti fa male Perché non pensi Che tu abbia Molta difesa speciale Ce l'ha Ha molta difesa speciale Arriviamo quindi Con punta fantasma Lui è di tipo fuoco Quindi comunque Non abbiamo mosse Che possono fargli Molto danno Andiamo dai Con voodoo comunque Balanga di pietre Ok Ci ha fatto un discreto danno Però noi Ne ne facciamo altro Ed ora ci serve Un attacco Che vada A colpire subito Ma non ce l'abbiamo Quindi Ok Abbiamo comunque Usato punta fantasma Prima di lui Aumentando i due Il nostro attacco fisico Che non ci serve a nulla Perché la lotta è finita Ok Ok Puoi scavare anche qui Ma solo per stavolta E prendiamo Un botto di scaldi Giustamente Allora Curiamoci un attimo Va Conquiste Buono Buono Vai Torta E torta difesa speciale Inutile E andiamo a curarci Ci curiamo con la torta PS Small E la diamo A Roara Che fortunatamente È sopravvissuto Davvero attancato Con non so quanta fortuna Una anche a Lunar Wolf Ok E proseguiamo Salve tu Sembra possibile Raggiungere l'altro lato Di quel ponte Senza bruciare i calzini Deve esserci qualcosa Che posso usare Per attraversare Ok Dovremmo fare In qualche modo Quindi Allora Andiamo in questa tenda Prima di tutto Vediamo se qui dietro C'è uno strumento No No Nada Nessuno strumento Qui Quindi Ripariamoci Poi dobbiamo Entrare in quella grotta Dovremmo riuscire a farlo In teoria Sì Tranquillamente Anche Non scherziamo Qui fuori c'è un caldo estremo Però qui no Qui no più Quindi possiamo prendere questo strumento Che è una pietra di fenice Ottimo Perché l'abbiamo usata tutte Nella scorsa puntata Contro Illugin Oh Vittibolt Bellino Fuga Anche se forse Con un graffio Potrei shottarlo Oh Buzzer Proviamo a shottare lui invece Che ci dà sicuramente Più punti esperienza È super efficace Graffio Non lo shottiamo Ovviamente Però Se posso Fare i due colpi Le faccio volentieri Mannaggia lui Che mi toglie però I pp I punti Energia volevo dire Corpo statico E mi ha pure paralizzato La merda Però prendo un po' di punti esperienza Attiriamo sull'attacco fisico Anzi 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 Velocità Punti Energia Vai Bilanciamolo un po' questo Coromon Che deve essere bilanciato Arora Ed ora sostituiamolo Mandiamo per primo Mannaggia Fidli Che è morto subito Vabbè tanto a livello 31 Comunque quindi Il suo l'ha fatto Mandiamo Valzer Proprio attenzione Tornare indietro A mettersi la crema solare Ma di nuovo ci saranno Le sabbie mobili Le sabbie Proventi Sì ci sono di nuovo Vevo vedere se c'erano degli strumenti Nascosti però qui Che è il Bitty Bolt Potremmo ucciderlo Sì volendo Però direi di non specare I punti di energia Per Bitty Bolt Qui non c'è nulla Nemmeno qui Però qui Nemmeno E qui Ne mancano solo Due da controllare Ah Digmaw Digmaw Addio Digmaw Presta vera scippo Ecco infatti Qui abbiamo Una mossa Istantanea Ottimo Altri sabbie rovente Qui? No forse no No infatti Allora Oddio qui c'è Ali Baba Lì è una tenda Che forse c'è Cura i Coromon Da dimmi che mi curi Coromon tu Guardia Questo è il nostro Deposito di gemme Non è consentito L'accesso al personale Non autorizzato Ah niente Pensavo fosse una tenda Ma per curare i Coromon Invece era il loro Deposito di gemme Scarbon Allora Lui resiste All'elettro Mannaggia Allora Facciamo così Squadra Andiamo a Ducterra E facciamoli un po' di scippo Lui Che sarà una guardia del gemme Da avrà tanti soldi Osso finto Non ci farà nulla Infatti Scippo d'oro Invece noi questi soldi Li prendiamo molto volentieri Che ci servono Morfeo Non ha colpito Ottimo Non mi addormento Infame Altro scippo d'oro Osso finto Perfetto Continua a non farmi danno Se ci tieni così tanto E altro scippo d'oro Teschio tossico Infame mia verena Infamella Niente Cambiamo di nuovo Anzi Uccidiamolo questo Con morso verenoso Forse due ce ne serviranno Ok Forse Forse muore col veleno Vediamo eh Sì perfetto E noi sostituiamo Dali terra L'altro non c'è altro Nessun punto esperienza Skuldra La sua evoluzione Vai Squadra E toccherebbe Mandiamo Lunar Wolf Toccherebbe Darohara Ma a metà vita Non lo mando così Bulletto Bravo Abbassare l'attacco Però l'uso L'attacco speciale Che è inutile Praticamente Quindi contento lui Noi invece useremo Voodoo Morso acido Colpo critico Mi ha fatto parecchio male E mi diminuisce La difesa fisica Cacchio Qua Lunar Wolf Risca Risca parecchio Devo cambiare Squadra Ehm Mando buzzer Per forza Perché se mi fa Un altro attacco Con la difesa A meno 2 Mi sciotta Morso acido Che lui resiste Già di più E posso fargli Un Vedete Lui resiste A un botto Di miei attacchi Posso fargli Un morso velenoso L'unica cosa Posso fargli Non si avvelena Però Macelle mendicative Cacchio Facciamogli Un altro morso Velenoso Ho avvelenato Finalmente Posso finto Non ci fa nulla Quasi nulla Ok E direi Di cambiare Di nuovo Coromon E mandargli Facciamo così Mandiamo di Butterbit E' giunto il momento Che anche lui Si sporchi le mani E che in caso Ce lo ammazzi Tanto non conta niente Eccolo Perlomeno Gli fa prendere Un po' di danno Con il veleno E useremo Pugno propulsore Che ha priorità Ah tra l'altro Lui doveva usare Doveva riposare Quindi vabbè Non ha manco colpito Quanto fa schifo Sto Sto coromon Fa davvero cagare Guardate che danno Incredibile farà Wow Pure colpo critico Infatti mi sembrava strano Facesse così tanto danno Bravo Butterbit Sei servito Alla causa Sei davvero servito Alla causa Perché ora Posso mandare Lunarwolf E sperare di essere Più veloce Buono Un'altra drop All'attacco E colpirlo Con un punte Fantasma Perfetto Questo mi Busterà No non è morto Dai ma che sfiga Questo mi avrebbe Bustato l'attacco Di due Permettendomi voi Di uccidere Anche il prossimo Cacchio Punti esperienza Distribuita a tutti Buzzer Ha risvegliato Il suo potenziale Attacco speciale E Tiramoli su un po' Di difesa No Jellish Non l'ha mai visto Oddio Chi è questo Tipo acqua Ed è potente Mi servirebbe Arohara Andiamo arohara Anche se è paralizzato Punture Aia Con una palla di nieve Dovrei shottarlo Con uno spruzzi Non ci fa nulla E paralizzato Non può muoversi Giustamente Palla di nieve Di nuovo Spruzzi Va bene Ce lo tantiamo Palla di nieve Ole Addio Jellish 32 per Arohara Però non si evolve Lunar Wolf 32 È risvegliato Parte del suo potenziale Continuiamo a tirare Il suo attacco speciale Va A manetta Continua a camminare Se non sei Alon O uno dei suoi stimati ospiti Non ti posso far entrare In questo deposito di gemme Ok Arohara non è più paralizzato Meglio Il problema è che qua È un casino Dietro c'è qualcosa Magari No Eh beh Devo entrare lì sopra Noi magari No ovviamente Lì c'è anche Quell'allenatore Che dovrei battere In teoria ma Ho davvero Il coro Ma messi malissimo Cioè non male Di più Ricariciamoci un po' Ok Buono E anche Dugterra Facciamo un paio di lotte Con i selvatici Per toglierci il veleno Di Dugterra Già che ci siamo Quindi andiamo ad esplorare Anche di qua Burciamo un po' Di piante Ma qua Gli spostiamo Dal deserto Tiriamo via tutto Qui Così possiamo passare Dai Su Bravo E là sopra Non c'è nulla Ma immagino Ci sia uno strumento Nascosto In quel cactus Nemmeno Ah no ok Si può passare Sono io che in questo In questa mappa Davvero ho dei problemi Con il Con il mondo di gioco Qui Allora Vediamo cosa c'è qua sopra Prima di tutto Non c'è niente Davvero E se la metto Un modo per passare Evidentemente Qui sotto c'è Uno strumento Da prendere Ce lo prendiamo Molto volentieri Potrebbe essere Una torta Una cura Qualcosa Spinner statico Spinner sabbia Vabbè niente di che Passiamo di qua Allora Niente Andiamo da questa parte Vediamo cosa c'è di qua Vallone dell'alba Qua però Un'altra cosa No non voglio farlo Continuiamo Esplorare il deserto Prima Il deserto Di Wustin Ok Le piante Che ho bruciato Rimangono bruciate Per fortuna Vediamo da questa parte Tu sei un allenatore Vero Sei un addestratore Ehi Su serio Sono appena arrivata Questo punto è dove scavo Io E non mi piace condividere Calma Aila Calma Ah Peterbite Morso velenoso Super efficace Sul tipo normale Non fa molto danno Perché purtroppo Buzzer Non ha molto attacco fisico Ah ha velenato però A questo punto Posso provare a fare Un colpo di fulmine Pugno propulsore Ci colpisce per primi Perché ha priorità Speriamo che non ci abbatta Infatti ci ha abbattuti Mannaggia Colpo di fulmine Altro Pugno propulsore Però Ma il colpo di fulmine Dovrebbe Shottarlo Quasi Conduttore Come scusa Per favore Muori col veleno Un ps Gli è rimasto E si è mangiato Il frutto di uva Non posso mandare Dugterra Perché è avvelenato Mandiamo Aurora Porco cane Pugno propulsore Un'altra volta Ok No nessuno gli toglie Una palla di neve Se si fa pure un pisorino Peterbite I miei cormoni Stanno ad essere però Un po' troppo scarsi Per questa zona Cioè A livello di livelli Sono giusti Però Insomma Il fatto è che Sto recando Complicamente Con 5 cormoni Non con 6 Mudun Chi è? Ah Mudma Ok Spettro Lui vero Sì Eh Vero dovuto mandare Lunar Wolf Qui servirebbe Proprio Lunar Wolf Usiamo Palla di neve Un danno Non male Ma mi aspettavo Di più Anche perché Lui fa parecchio danno Altra palla di neve Buono Sonde Ok Vediamo se Lo sostituiamo ora Sì dobbiamo sostituirlo Alternate Con il prossimo attacco Ci sciotta Mandiamo Lunar Wolf Vai Brava Abbassare l'attacco Ombreggiatore Dovremmo reggerlo Attacco Meno 1 Sì Più o meno Punto E fantasma Ma dai Non è morto davvero Ma scusa Vabbè Questa è sfiga Ragazzi Questa è sfiga Totale C'è Un attacco Super efficace Che non lo ammazza È proprio sfiga Mandiamo due terra L'unica L'unico modo E Facciamogli un morso Ah Più che tosta Però fare questo livello Infatti subisce Gli effetti L'avvalinamento Era per quello Che non volevo mandarlo Per De Roba a caso Ah Questa è tipo acqua Tra l'altro Eh Devo mandare a Roara Altrimenti Ce lo shottano Bruzzi appunto Ha tentato Di shottarcelo Mentre noi Dobbiamo riposare Sì Va bene Vediamo lui cosa fa ora Aerodinamicità Mentre la sua velocità E Usiamo la mia palla di neve Zanfillo Ok Lo reggiamo Ah Fa un culo Tanca il 40% Del danno L'avremmo shottato Altrimenti Usiamo un'altra palla di neve Zanfillo Dovremmo tancarlo Perfetto Calcolato bene E addio Shear Non è salito di livello Mentre Dug Terra Sì Ok Questo è il mio posto Tutto mio Non l'abbandonerò mai Neanche se mi trascinate via Va bene Con calma Eh Eh Questa è un'altra Questa è un'altra Alienatrice Porco cane Oggetti Stiamo usando tutte le nostre cure Ma solamente perché non voglio tornare indietro Solamente per quello A curarmi Pokémon A curarmi Kormone Voglio dire Tiriamoci su Abbiamo finito Appunto tutte le torte S Lunar Wolf è andato KO Cacchio però qua ragazzi Facciamo un paio di lotte con i selvatrici Così l'avvelenamento di coso se ne va Ok Che in realtà basta fare fuga Per l'appunto Vai altre lotte Così l'avvelenamento se ne va Ah lui non l'abbiamo però Potremmo catturarlo Craptile Craptile Usiamo Morso Velenoso Sì ma non prende danno Cioè boh La precisione diminuita Avvelenalo Oh bravo Come scusa Ha un attacco super efficace Contro di me Ma andiamo a Roara A tancare Tabbia attascabile Ok Non è un problema Perché tanto adesso Provo a catturarti Oggetti Vai Spinner Usa Ti prendo eh Kyreptile Infatti Sì Sì diamo un'occhiata Sommario Attacco fisico Altissimo Difesa fisica Altissima Ecco perché non prendeva danno Non comune E guardiamo doppio squarcio Che ha fatto un danno assurdo Squarcio è il nemico Quest'attacco non fallisce mai Fortissima sta cosa Artigli affilati I suoi artigli affilati Impediscono il calo Dell'attacco fisico Ho pisto pokemon Tieni ovviamente O meglio Questo coromon Lo inviamo al deposito Sì Ok Non sono saliti a livello Per pochissimo Buzzer invece sì Così a caso Va bene E Duke Terra Si è ripreso dall'avvenenamento Ecco quello che volevamo Io faccio un salvino veloce Perché da un botto Che non salvo E metto davanti Duke Terra Diamo degli oggetti Diamo dei frutti Va Ai nostri coromon Sopravvissuti Frutto Juba Dai A Arohara A Pazzer E basta Gli altri sono purtroppo Crepati male E qui Si affronta un altro allenatore O no Ah no E tutto bene Cavoli Oh cavoli Un po' troppo Pericolosamente vicino Ora come ora Mi piacerebbe molto Un trattamento alla spa Scusami Aspetta Che sta succedendo Cosa c'è lì dietro Dolore e sofferenza Già Dolore e sofferenza Pensa Io me ne stavo a esplorare l'area In cerca di un nuovo coromon Che paresse agire qui Quando improvvisamente Ero a terra Così A terra Come una frittata Poi quando ho aperto gli occhi Oh che orrore Solo a pensarci Mi tremano le ossa Quando ho aperto gli occhi C'era un enorme scultra A qualche centimetro Dalla mia faccia Ringhiava Spavava Come una bestia rabbiosa Quindi me lo sono data a gambe Ne andava della mia vita Un coromon Che attacca gli umani A vista Non capisco Deve essere impazzito Per forza Ma ho isolato l'area Così le persone in transito Dovrebbero essere al sicuro Per ora Ad ogni modo La spa in città Mi attende Ciao Ok C'è uno scultra Da uccidere Frutto deep Frutto occhi Va bene L'occhi L'occhi servirebbe Effettivamente Eccolo là Mi servirebbe Il mio amato Fidley Per riuscire a battere Quel tipo Posso entrare? Continuo a camminare No niente Non posso entrare lì A questo punto Devo per forza Andare da questa parte Ok E andare di qua Perché devo curarmi Coromon Non posso continuare così Ma questa parte Il vallone dell'alba Lo faremo nel prossimo episodio Perché questo Finisce qui Io ti ricordo Di mettere un bel mi piace Se il video ti è piaciuto Di commentare Ed iscriverti al canale Per non perderti I prossimi caricamenti Da Ilasher Sphere È tutto Al prossimo video